Sì, lo so che tu devi ancora sbloccare questa skin Beh, e io ti aiuterò con un glitch Davvero tantissimi XP Ma se anche tu lo ricevi Ti ho 5 tini per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like In questo momento si può ricevere anche tu tantissimi XP Ma mi raccomando di più passare Non da te nel negozio Dirizzate il codice con ingame 82 Se anche voi volete ricevere queste skin Mi raccomando così mi supportete Le farà tiglio del genere Ora andiamo a mettere questo code Quindi 830 Scusate, volevo dire 8, 3, 9, 9, 0, 0 35, 2, 6, 5, 3 Andiamo in premere invio La versione dovrebbe essere la 23 A parte adesso pur che è una privata Perché se no il glitch non andrà Beh, perfetto ragazzi Una volta che siamo qui Non dobbiamo fare altro Che andare esattamente in questo punto Qui dovremo avere un pulsante Chiamato XP Button Questo pulsante appunto Ci permetterà di ricevere al momento XP AFK Perché dica al momento Perché raga Dovete eseguire esattamente questi passaggi E prima cosa è che dobbiamo andare Esattamente qui sopra Quindi una volta che siamo qui Saliamo esattamente in questo punto E facciamo un balletto Perfetto Ora scendiamo Andiamo qui Dovremmo trovare un pulsante Andiamo a premere Prendiamo il tasto Interagisci Ci troveremo esattamente in questo posto Ora andiamo qua E andiamo a premere questo qui E premiamo gioiello Ora entriamo dentro Beh appunto il primo oggetto Si trovava qua avanti Il secondo si troverà esattamente Qui all'inizio Quindi prendiamo il secondo oggetto E ora raga Ci manca l'ultimo Appunto questo qua Si troverà esattamente qui dentro Quindi andiamo qua vicino E premiamo il pulsante Interagisci E lo prendiamo Perfetto ragazzi Ora andiamo qui Al piano di sopra Ci porterà fin qui raga Andiamo vicino a questo gestino Andiamo a premere Raccogli Perfetto ragazzi Ora dobbiamo mettere Questi tre items Ce l'abbiamo qui dentro E ora andiamo a premere Qui il tasto Interagisci Perfetto Lo dovremmo aspettare Esattamente dieci minuti Ok ragazzi Perfetto Ora sono passati Esattamente questi dieci minuti Prendiamo questo oggetto Qui sopra E lo andiamo a mettere Esattamente qua Quindi interagisci Perfetto Ora ci inizierà a dare Davvero tantissimi XP Ma ora raga Dobbiamo continuare Con il glitch Ok perfetto Mentre ci continua Andare ad XP Saliamo esattamente Qui sopra E prendiamo questa cosa Ora quello che dovremmo fare E andare esattamente Qua appunto Possiamo vedere Che tra 4 e 11 Dere ancora Ciderà il primo Degli XP Che ci sta dando ora Dopodiché Quando avete fatto Non fatelo ora Prendete questo oggetto E vi darà ancora Altri 5 minuti di tempo E vi darà ancora Il più XP Di quello là Che avete visto sotto E ragazzi C'è anche l'XP shop Che possiamo trovare Qui sopra Ok perfetto Un secondo Ora dobbiamo andare A mettere L'oggetto Che avevamo preso Esattamente in questo punto Quindi aspettiamo Che qui Carichi E perfetto Ci sarà dare Altri davvero Tantissimi XP Intanto qui sopra Sarà partire un altro Timer Andiamo a prendere Questi oggetti E quando sarà finito Il timer Possiamo interagire Tantissimi XP Quindi mi raccomando Codice Quoting Gamer C'è 32 Quindi c'è Ragazzi Bye Ah i 5 livelli Accanto Comunque Li ho fatti